un gesto che non trova parole per essere descritto quello che è stato fatto al parco fluviale del testene ad agropoli uno dei responsabili del progetto genesi dell'ambiente gerardo scotti che da sempre impegnato presso il fiume per la tutela e la valorizzazione di questa grande risorsa questa mattina si è accorto che mancavano delle uova ieri ci siamo accorti che mancavano le uova delle anatre spiega gerardo perché sappiamo esattamente che le fanno lì e quante ne mancano oggi ho sorpreso un soggetto che lavora con la società partecipata della città di agropoli possessore tra l'altro di una mercedes nuova di zecca che stava rubando le uova sottolinea scotti le aveva messe in tasca quando gli abbiamo chiesto cosa stesse facendo ha negato di averle prese mi sono inviperito per la sua presenza anomala nel fiume e mentre andava via io ho fatto notare che ci sono le telecamere a presidiare l'aria il soggetto è tornato dopo dieci minuti e ha rimesso le uova a terra ora lo segnalerò senza denunciarlo ma alla prossima occasione gli faremo capire che cosa è il patrimonio faunistico dello stato e che accade a chi fa reati su questa risorsa unica un ringraziamento va ai ragazzi dell'associazione genesi dell'ambiente che anche oggi si sono prestati per tutelare il nostro bene comune già nell'estate scorsa presso il fiume testene alcuni esemplari di germano reale furono rubati l'area del fiume che i volontari stanno monitorando riqualificando e portando avanti con tanto impegno sacrificio e tanto amore è un bene prezioso dal punto di vista ambientale che ogni singolo cittadino dovrebbe preservare custodire da atti del genere sdegno e rabbia da parte di tanti cittadini che da quando i volontari dell'associazione genesi hanno iniziato a presidiare e a riqualificare l'area sostengono le iniziative intraprise dai volontari